Ancora un colpo messo a segno nell'aretino. I ladri si arrampicano dai balconi e smurano la cassaforte. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 gennaio in un appartamento in via Alfieri in zona Tortaia. I malviventi approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa si sono introdotti all'interno dell'appartamento al secondo piano di una palazzina arrampicandosi dai balconi. Hanno fatto un buco nel finestrone? Sì, un buco nel vetro e hanno aperto e sono entrati. Una volta all'interno hanno smurato la cassaforte che si trovava dietro un dipinto. Radicata e l'hanno portata via. Non ho trovato niente di sciupato, niente di altro, solo è mancata la cassaforte. Secondo me loro, perché c'era un po' di puzzo di bruciato, hanno provato col frullino a togliere, non gli è riuscito, gli è saltato la corrente perché io ho trovato la corrente saltata e loro senza altro o con un piede di porco forzata, l'hanno proprio sradicata, ha spaccato. I vicini hanno sentito qualcosa? Hanno sentito il tonfo tutti ma nessuno pensa mai a quello che è logico. Di meno a che ore potrebbero essere entrati? Chi dice che ha sentito il tonfi verso le 6, che l'ora di 18. La mala scoperta per i padroni di casa una volta rientrati, camera in vasa di calcinacci e trafugati preziosi di famiglia per circa 7.000 euro. C'erano degli orologi, c'erano d'oro, c'era roba che normalmente si viene tutti.